Partecipazione attiva dei cittadini, se ne è tanto parlato, adesso si comincia veramente? Sì, come sapete il nostro sindaco ha deciso di istituire un nuovo assessorato, che è proprio l'assessorato alla partecipazione, affidato all'assessore Alberghini. Adesso iniziamo, nei primi mesi abbiamo cercato di strutturare il percorso, adesso iniziamo ad incontrare i cittadini. Quartieri e frazioni saranno tutti interessati da incontri in cui, grazie ai supporti cartografici, capiremo le esigenze dei cittadini, i loro desideri, i loro problemi. Da qui nasce un percorso più complesso, con l'adozione a breve di un regolamento per la collaborazione nella gestione collettiva dei beni comuni e da cui poi discenderanno i famosi patti di collaborazione, quindi delle collaborazioni appunto paritarie tra ente pubblico e cittadini che abbiano voglia di prendersi cura insieme dei beni comuni. Quali sono le tipologie di progetti sui quali ci si focalizza? Allora, i progetti possono essere molteplici, dalla gestione di un'area verde che può essere un parco, ad esempio parcolanger, o anche una piccola aiuola, quindi le scale sono diverse. Oppure un edificio in disuso che può essere ridato alla collettività, restituito all'uso civico. Oppure la manutenzione di tratti di strade o piazze. Davvero non c'è limite a quello che i cittadini possono fare per il proprio territorio. La cosa importante, secondo me, da sottolineare in questa fase è il cambio di prospettiva da un rapporto che divide le istituzioni dai cittadini. Oggi invece noi vogliamo mettere le basi per un rapporto paritario di collaborazione. Si parla di lavoro concreto attraverso delle riunioni, degli incontri con la cittadinanza nei quartieri e nelle frazioni. Noi partiamo dal quartiere Commenda Est con un appuntamento l'11 febbraio. Ci sposteremo poi nel quartiere San Bortolo. Prima passiamo per la frazione esterna di Grignano per discutere delle problematiche che si creano davanti alla scuola con i parcheggi al mattino e per arrivare poi al quartiere di San Bortolo dove la cittadinanza sente l'esigenza di parlare dei problemi di traffico su via Leoroboni e per quell'occasione il quartiere di San Bortolo gentilmente ospiterà anche il quartiere della città giardino e quindi questa unione, questa trasversalità tra quartieri penso sia anche positiva. Nell'ambito della città giardino si parlerà invece di parchi attrezzati per bambini. Sono tutte iniziative in cui si portano quartiere per quartiere alcune delle problematiche sentite dalla cittadinanza. Per cominciare poi, sono tre appuntamenti sperimentali che daranno il via ad altri incontri e si potrà naturalmente tornare anche all'interno degli stessi quartieri. Concretamente poi come funziona? Voi ascoltate le esigenze della città e poi? Ascoltiamo le esigenze della città, faremo sintesi tra le nostre posizioni e quelle dei cittadini. Saranno delle serate interattive dove si lavorerà su una cartografia attraverso dei post-it, delle indicazioni anche grafiche di soluzioni. Si quindi darà seguito ad una sorta di progettualità che è una progettualità condivisa che verrà poi proposta agli uffici tecnici che dovranno in un secondo momento realizzare queste soluzioni. Grazie. Prego, grazie a voi.